E' arrivato oggi il via libera al bilancio e la finanziaria regionale che il prossimo 29 dicembre saranno al vaglio del Consiglio regionale. Con noi c'è il Presidente della prima Commissione bilancio, Emilio Nasuti, con il quale affrontiamo le novità che questa manovra finanziaria regionale porterà sugli abruzzesi. Sì, intanto la Commissione ha licenziato il bilancio dopo tre giorni di lavoro intenso, costruttivo, anche con le forze di opposizione. Un bilancio che naturalmente è sempre più risicato e sempre più contratto perché sappiamo tutte le varie vicissitudini che stiamo incontrando. Però è un bilancio che guarda a tutti i settori, nonostante i capitoli siano sempre più risicati, abbiamo cercato di spalmare al meglio le poche risorse che abbiamo a disposizione. Plaudo al lavoro veramente costruttivo anche della minoranza perché credo che in questo momento dove effettivamente gli abruzzesi abbiano e necessitano di risposte, questa è una risposta concreta e quindi la prima Commissione ha licenziato il bilancio. Naturalmente il 29 sarà oggetto di discussione in aula, sicuramente ci sono altre cose o tante cose che sarebbero state meglio potute affrontare, però comunque diciamo che il lavoro è stato proficuo.